Anche Carmen, Carmen che succede? No, non ti devi mai arrendere Carmen, tuffati, forza tuffati, tuffati Carmen, è l'ultima prova, è importante. Mariana, Mercedes è la prima, vai potresti vincere Carmen, è già successo. Mercedes porta il suo primo dei due cocchi e ritorna passando attraverso i cancelli in acqua. E' arrivato anche Nicolas, il secondo in questo momento, Carmen ha deciso di abbandonare, si è arresa. Mercedes e Nicolas passano nel loro cancello, Nicolas accorcia le distanze, Mercedes si tuffa nella vasca di fango, arriva Luca D'Affre seguito da Maria Laura, sono gli ultimi due. Nicolas ha recuperato quasi completamente la distanza con Mercedes, sta arrivando a prendere anche lui il secondo cocco, subito dietro Luca D'Affre. Mercedes affronta per la seconda volta la gabbia di Ragnatele seguita da Nicolas, è una gara all'ultimo cocco, il primo dei quattro naufraghi in gara che porterà il cocco sarà il vincitore della gara. Lui la scelta di mandare un altro naufrago al televoto, Mercedes sta per affrontare l'ultimo ostacolo ed è lei a riporre dentro il cesto il secondo cocco. Brava Mercedes! Brava Manny!